Ciao e benvenuto a questo secondo e ultimo video di oggi Bene, qui ti parlo di un concetto veramente molto chiave, molto importante in modo che tu possa capire il concetto Bene, il problema è che quando tu fai, ti metti dietro e suoni tutti i giorni e fai determinate cose tutti i giorni Tutti i giorni hai un compromesso con te stesso e fai tesi più video ogni giorno In realtà tu non ti stai stressando ma stai mantenendo una cosa, una parola che ti sei promesso ogni giorno Di imparare e di fare un video, di fare un video per migliorare, per migliorare Non si tratta di quantità ma si tratta né di quantità né di qualità Si tratta di un concetto diverso che è la persistenza, è la disciplina, è il dire ogni giorno faccio questo Divertendomi ogni giorno applichi questa cosa del miglioramento, progressivo e costante C'è la trappola molte volte appunto del dire ma se lo fai ogni giorno esageri, stai esagerando No, non stai esagerando Lo fai ogni giorno perché ogni giorno c'è un piccolo scalino che cresce e proponi delle idee nuove ogni giorno Se aspetti l'idea, se ti metti a studiare tutto il tempo e non applichi, in pratica è un problema Io ad esempio tutti i giorni studio sull'armonia, sul volume, l'intensità e applico quello che studio Poco che studio, poco alla volta, lo applico in modo tale da incanalarlo, da immagazzinarlo, da sentirlo mio Ecco perché un video ogni giorno, tre video ogni giorno, o due video Proprio per immagazzinare i concetti e farteli non solo metterteli a conoscenza ma anche proprio per interiorizzarli Per capirli internamente, è questo il concetto Non basta solo l'idea, non è importante l'idea, l'importante è l'abito Questo è il concetto che ti deve essere chiaro in mente Il famoso concetto giapponese, la disciplina vincerà l'intelligenza È molto vero, è molto vero La disciplina col cuore, ripeto, con la passione Verso quello che ti interessa, tipo la composizione È fondamentale perché in pratica l'abito che crei è quello che va a creare di conseguenza le idee Le idee verranno da sole Perché tu avrai l'abito del compositore Alla fine, se ti metti ogni giorno a comporre, a scrivere cose Alla fine li immagazzini perché diventeranno tue prima o poi Se invece dici no, no, non voglio fare un video ogni giorno Ne faccio uno ogni quando ho l'idea Studio e poi quando ho l'idea ero, no, non funziona così Funziona con la persistenza, con il mettere ogni giorno Devi sapere organizzare ogni giorno la giornata in modo tale da avere degli spazi durante la giornata Ma devi fare i tuoi video, devi fare comporre ogni giorno E per azione massiva non intendo dire quantità o qualità Per me questi concetti qualità e quantità via Allora, si tratta di fare un brano a un giorno Per dire uno o due E di farli al massimo dell'impegno ogni giorno E creare l'abito Questo è il concetto Ciao, questo è un nuovo video Ciao, ciao